Daniele cos'hai combinato? Cos'hai combinato? Cos'hai combinato? No Maurizio che è solo questo modello Maurizio non ci arriva il zoom Maurizio Maurizio E allora quando fai queste ripristi io da quello che ho provato Paolo al canambo C'ha fatto un filo no ultimo Mi convinco sempre il filo E' bello Renato Io ho un modello che galleggia con niente Il fome sta volando bene Ma è magnifico Però lo devi fare leggero Effettivamente non si vede Al massimo 3 kg vanno la scatola